Con Gheorghe e Giorgio del Dacica, buon torneo, quali sono le sensazioni? Diciamo, per prima volta, perché abbiamo cambiato un po' la squadra, noi eravamo un po' compatti e quelle altre squadre, di quello che si pare, di quello che si vede, sono più omogeni. Noi, nel torneo, le squadre sono, diciamo, squadre toste, squadre buone, diciamo, per un livello buono di calcio, praticano. Per prima volta, noi proviamo di formare un gruppo, per prima volta, perché noi abbiamo avuto una squadra, ma hanno dovuto fare, ricostruire da capo la squadra e le mie prime impressioni è che le squadre sono squadre, diciamo, buone. Per questo, per il livello quale giochiamo. Grazie e complimenti. Grazie, grazie.